Genoa-Roma 0-2 Tutto facile per la Roma di José Mourinho ieri 21 novembre 2021 in casa proprio del Genoa Infatti la partita è stata Genoa-Roma e non Roma-Genoa Dove il Genoa non ha fatto neanche un gol invece la Roma ne ha fatti ben due Una doppietta di gol davvero epica a firma di Felix Afena-Gian Precisamente al secondo tempo all'82esimo minuto di gioco e al 94esimo minuto di gioco ovviamente del secondo tempo La Roma gioca molto bene soprattutto nel secondo tempo Infatti è proprio nel secondo tempo che la vittoria giunge nelle mani della Roma E soprattutto nel secondo tempo ragionante più che mai ottiene questi straordinari nonché epici magnifici due gol Il gol che veramente segnano questa angelicata vittoria che in maniera determinata, in maniera concreta, autentica È stata raggiunta con gaudio e competenza proprio dall'A.S. Roma di José Mourinho Bene, ovviamente a Roma di Mourinho che ha fatto questa vittoria Contrariamente a ciò che molti pensano Secondo cui chi gioca fuori casa può spesso e volentieri perdere Bene, in questo caso mi sento di dire Come vedete, pur giocando fuori casa la Roma è riuscita a besciare contro il gioco Quindi giocare fuori casa non implica per forza di cose una sconfitta Sì, c'è meno tifo Sì, i giocatori si sentono forse meno acclamati Ma nonostante ciò, la vittoria è arrivata tutta nelle mani della Roma Bene, complimenti a José Mourinho, complimenti a questa S. Roma Iscrivetevi al canale Narrato Italiano Commentatevi, fatevi sapere cosa ne pensate Un saluto a me e al prossimo video